Non capita tutti i giorni di vedere una sfilata del genere per le vie di Pavia. La città nel pomeriggio di domenica si è trasformata nell'universo di Star Wars grazie all'iniziativa organizzata dalla biblioteca comunale Bonetta in occasione della rassegna Fantascienza, leggere il futuro. Per le vie del centro si è snodata la parata dei personaggi in costume preceduta da due sonatori di tromba, Alessio Molinaro e Giorgio Tosatti, che hanno eseguito i temi più celebri della colonna sonora. Un appuntamento che, come era prevedibile, ha visto radunarsi in città centinaia di curiosi e appassionati di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. In Piazza della Vittoria e Corso Cavour hanno sfilato i gruppi ufficiali dei fan di Guerre Stellari, quelli approvati dalla Lucasfilm, ribelli imperiali e mandaloriani con in testa Darth Fener e l'imperatore Palpatine e a seguire la principessa Leila, Kylo Ren, gli Stormtrooper, i Cavalieri Jedi, i Java e i piloti. La sfilata si è chiusa sulla scalinata dell'uomo con un colpo d'occhio impressionante, una piazza piena, tanti cosplayer anche tra il pubblico e foto a volontà.